dove eravamo rimasto eccoci qui buon salve a tutti perché tanto il buongiorno buonasera nei video non si può dire perché tanto ognuno vede a che ora gli pare comunque andiamo avanti abbiamo battuto tanta gente qua abbiamo preso trattini l'ultima volta dove dobbiamo andare non so se sotto a sinistra perché c'è rimasto possiamo vedere o sabrina sabrina c'è proprio un tipo psico e sennò andiamo da coca giù che c'era veleno si apoli desidero tanto quale perché quel gioco ti permette non so quindi verde foglia rosso fuoco ma in blu e rosso li permetteva mandogna uguale io ce l'ho un pokemon con cui mi posso fa facilmente tutti si ce l'ho veleno il patti veleno cavolo io ho dato onda shock a rati che te l'ho votato a drago a dratini hai abbassato la schermata di gioco io ti pisto non è toccato niente e ti faccio vedere io non è toccato niente voi parole dure parole dure di un uomo davvero strano vedo così non ho più fatto oh l'hai voluta ma io mi ricordo che il mio invece era per livello credo che sia usata tanto non ce l'ho 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 da avercce la non è l'ultra pausa quel d'i che non è quella è infatti sì per caso che non l'ho presa però non buttà giù la cosa che mi veda tutto da spaventare in un altro schermo dove te no così devo fare proprio tanto taglio il pezzo però a me quello non mi ha fatto passare quindi come era da fare ricordo e basta che c'è acqua fresca doveva c'era passare dove stavi? vabbè intanto vado verso... no aspetta da me l'ho perso neanche qua mi fa passare dove era che dovevamo andare? ce n'era uno che voleva e basta e ci dava poi il via liberata per tutto qui bastava uno gli davi la cosa e poi era tutto... ah in te a me si è preso fatto passare pure a me ma qui si bloccano l'entrata dapp e tutto tranne per la palestra di tipo lotta si è per la SIRP SPA boh andiamo prima a SIRP SPA liberiamo dal coso oh ma dato psichico buonissimo vediamo se me non pare qualcuno psichico uno sotto una casa sotto no sulla destra eccola lì lì nessuno... ah psichico si è preso ehm... psichico avevamo detto che funzionava contro il veleno quindi si poi volendo se trovi uno che glielo puoi mettere potevamo andare subito giù pure allora... che numero era? 29 29 ma sei nato SIRP SPA? eh si poi c'era di nuovo Giovanni no? si però mi sa che la SIRP SPA è dopo... prima dobbiamo fare un'altra parte mi sa che aveva così... no? ma è dove ci ho metto il capa? Mosca cosa fai qua? vediamo a che livello ci hanno... ci hanno il 25 questi oh ti impara psichico? in serio? ma tipo tutto... tipo... un po' di quelli normali tipo Wigglypuff... lui... ma davvero? peccato che lui è un tipo fisico però quindi il psichico farà poco danno eh lo so... dato che loro c'hanno pokemon... su Zubat e queste arti io... me ne vado tutto a Tini... più buona giustamente... più buona giustamente... ma che... sono pure al livello 29 queste arti... questo è un'anima di drago tu non dava paralizzato pezzo di merda di drago ti ho quasi rovinato potrebbe invece andiamo di ninguang ok breccia quindi lotta è super efficace contro l'acciaio mi piace non lo so ne abbiamo parlato l'altra volta ma non me lo ricordo 27 or 10.000 anti paralisi e anti cosa adesso come sto a paralizzare il mondo mi esco un attimo ancora io infatti abbiamo paralizzato cosa tratini ecco dragonite io potrei imparare a fuoco pugno sempre se la trovo in mossa anche se conto di pokemon di tipo ghiaccio poi dopo erano ammazzato paralizzato lo so fanno qui senti un po' di silenzio oddio chi era a guidarmi non ci posso dire che poi neanche l'avevo messo nella squadra qua a parte la squadra qua sotto non l'avevo cambiare oddio se in modo riesco a andare a lavorare ah dratini c'era è vero no rega io non ci posso credere ma io so l'anima al momento no dopo dovete tenare intenso l'impasto non lo facciamo così va non lo vedo mi serve lui a me si c'è bene un atto buono pure quello che era vereno psico pescando potessi trovare io slopok tu orsi e lo slopok è buono pure gravi io e tu psyduck nooo 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 devo ancora cambiare i miei pokemon qui allora tu ti cambii su è preciso preciso ehm poi allora tu la rex che eri in grolitz mi dimentici ehm lui commissario lex no è il cane più bello del mondo bimio bimio speravo che non passi a Sabine però beh infatti basta che non vai in autostrada non voglio guardare non voglio guardare ma perché è il cane più bello del mondo era meglio del rendendì e lui non è più boh perché ormai ho capito chi fa le volbe c'è una volta una cosa o elettro troppo alti qua troppo alti qua troppo alti qua diventi un chiede guarda ok ok vabbè tanto ce n'hai in botte ne vediamo pure arancia a 10 ma non hai capito il problema vero è che lui è insetto io so erba mi massacra ok vabbè vabbè catturato ehm pigi ho trovato l'elimina mosse sta qua con il fratello maggiore del guru pescatore io devo pescare si io le siamo buono non c'avamo già quello migliore ehm infatti però mi serviva il buono per ponivag quindi si ci aveva doppiando preferisco lui davvero quell'altro se no ecco possiamo fare sto discorso a zona safari che facciamo e catturiamo tutto e poi se no guarda se no facciamo come stavamo di l'altra volta catturiamo tutti mhm e ce ne possiamo tenere solo uno a scelta alla fine per tutta la zona safari magari la facciamo tipo in modalità a dono ma se fosse così e niente allora mi tocca prendere il ditto qua e pescare 14 mi tocca fare il contrario oddio ho qui due che c'aveva ma cioè non l'ho sfidato quella là no porco giù mi ha congelato eh beh lo fanno ho comprato l'antigelo porco giù si però rega io non posso per due mosse per di pokemon incredibile e uno seccato e l'altro lo vivo a livello davanti a te al cimvolo quanto leva e tanto ho trovato ditto però finisco devi vedere eh sì la tua postioncina succoso ci sta bene ok ho fatto per cimvolo ho sbagliato a chi fallo però no io rischiato quindi risuperpozzo non ho una breccia lo taglie miglia a livello 14 no la cimvolo quando ci sono andata da questi aspetta che c'è un'altra lì fermi tutti tu qua l'avevo già battuto di tutti andavo tutto andavo a curare prima io adesso come fa russare mi fa però maledetto ah ti è andata a catturare la snorlax? no ditto ah ne hai letto era un po' sbiadito no neppe niente è che ho avuto un attimo di panico prima ditto ditto lo chiamo tutti come lo chiamavo oh è di buono se so mai dato che si perde ci giaceno qua mucca livello 25 stavo il vento lo faccio avvolver pugno ombra ah si tu levi 60 pugno inevitabile che proviene dalle tenebre infel giandanno per il livello di chi la usa quindi meglio pugno ombra che ombra notte adesso si qua al 100 fottiti di chi cosa mi ha staccato subito mi comincia a sciottare bene fino al basso non mi sciottano più nonostante oh no che di te non so più potente del gioco in pratica l'unica cosa che abbiamo fatto in questa in questa partita è far morire i dati più ombra ombra vabbè oddio volendo ci possiamo pure secca snorlax tanto adesso ce lo chiudiamo tanto a ricatturare non lo possiamo ricatturare no lo possiamo ricatturare soltanto che tu mi prendi un doppione però io io me lo catturo per sicurezza non voglio vita che mi ammazza qualcuno si almeno ce lo togliamo subito di mezzo e via aumentato ma non me lui si risve... madonna senti io lo ammazzo questi cazzi io non mi serve evitiamo oh però guarda tanto io l'ho levato ma bene che bollica proprio oh che catturato mi chiamava per favore di cosa me l'ho chiamato il più small lexico oh oddio mi chiamava giada oh giada io il portonello qua non mi centrava non mi ricordo lo chiamiamo secondo lo vediamo ah beh a parte c'è sta ricordati quello là quindi semmai vai da lui al volo ecco là se no domani ripartimo quando è ripartimo che non è buono quindi no all'ax vabbè per ora lo piazziamo come divano poi ci penso la prossima big show l'avevo chiamato ah l'avevo chiamato viscera non c'erano tutti e due wrestler vediamo vabbè vabbè dai ci fermiamo qui ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ciao e ricordatevi di Goku e della team anzi equitaglio ciao ciao